Avvocato Ortu, l'apertura al settore M&A dello studio sembra aver portato i suoi frutti. Quale bilancio può tracciare? Grazie. Speriamo che li abbia già portati ed è una cosa che dico con grande soddisfazione perché in realtà questo tentativo di combinare IPIT da una parte e corporate M&A non era scontato. Ci abbiamo provato e a distanza di ormai un paio d'anni speriamo che il risultato sia stato quello che ci aspettavamo.